Vedere il nostro pubblico, chi la sera va via felice, soddisfatto, ringraziandoci per uno spettacolo che non è solo bello, ma a volte ci dicono, è necessario, è un balsamo per l'anima, una ripaga per il cuore e una ricarica per farci ripartire ancora più motivati. E alla luce di questo successo stiamo già operativi, stiamo pensando a cosa e a come mettere in scena le attività per il prossimo anno. E qualche tempo fa, poco prima del Covid, abbiamo chiesto al pubblico di darci delle indicazioni. Il pubblico raccogliendo alcune proposte fra dieci titoli che noi avevamo indicato, si era espresso affinché noi si mettesse in scena all'Orlando Furioso.